L'allerta meteo segnala, con tre colori, la gravità e l'estensione dei possibili effetti previsti. Gialla, fenomeni significativi ma non sempre su tutta la zona. Arancione, pericolo, fenomeni intensi con effetti ingenti ed estesi. Per i temporali è il livello di massima allerta. Rossa, grave pericolo, fenomeni ed effetti molto intensi su vaste aree del territorio. Occhio alla tua sicurezza! Grazie!